Buonasera a tutti, siete pronti per la night session di mercoledì 15 marzo? Sono le 22.45 e cercherò di essere il più rapido possibile, ok? Allora, l'aspettativa che avevamo ieri, visto la violazione a ribasso del minimo da cui poteva essere partito il quinto timono 3, è stata rispettata, ma cribbio santo! Questo è stato così lento Bitcoin durante la giornata che l'abbiamo fatto esattamente alla 44esima barra, perché le tempistiche che vi segnalo sono quelle più corrette in assoluto per i cicli? Per il fatto che sono oltre 10 anni che le testo e che le riaggiusto se vedo qualche cosa che non funziona. Chi utilizza tempistiche differenti e dice di utilizzare la ciclica di Hurst o del migliorino, ok, Hurst no, è differente nella realtà difatti, il migliorino ormai non è troppo più attuale per determinate cose e quindi le tabelle cicliche sono quelle che ormai conoscete. Cosa è successo oggi? Abbiamo avuto l'IPP, eccolo qua, l'IPP alle 13.30, ok, e che cosa è successo? Niente, assolutamente niente. Un po' come tante altre volte. Movimento prima di discesa, prima del dato, poi di salita e poi siamo andati a Target. Ho fatto questo trade? No, non mi convinceva, ve l'avevo già detto ieri sera, se la metteva troppo lunga nell'andare a rompere la media mobile a 50 periodi non avevo voglia di entrare, infatti così ho fatto. Non sono entrato, amen. A questo punto però la cosa interessante è questa, che stante la centratura con una durata massima sul quinto t-3, noi possiamo auspicare che da qui stia partendo un sesto t-3, a meno di uno scherzo che fanno mai varie volte tra un t-1 e un t-1, di cui non vi parlo neanche, perché è una cosa che viene troppo citata, ma di cui pochi sanno una definizione valida. Cos'altro raccontarsi? Semplice è che Bitcoin risponde perfettamente alle regole dell'analisi tecnica che è incluse nell'analisi evoluta e nella ciclica, anzi no, solo nell'evoluta, nella realtà dei fatti, ovvero siamo entrati nell'acumo, abbiamo provato ad andare su, ci siamo fermati praticamente sul livello superiore, abbiamo provato a resistere, sono arrivati i volumi in discesa e siamo finiti dopo aver toccato il livello superiore su quello inferiore. Su questo abbiamo fatto una candela di rimbalzo, ok? E abbiamo continuato a rimanere ancorati al livello inferiore dell'acumo, ok? Che cosa ci si può aspettare da adesso in avanti? Noi dobbiamo andare a chiudere un secondo t-3 inverso, è vero, può chiudere in tanti modi differenti e ve li faccio vedere, può chiudere così, può chiudere così, può chiudere così, ok? Però, ecco, come chiuderà, ci dirà già tante cose su cosa fare nel proseguire del tempo e della giornata. Ritorniamo però, facciamo un attimino un passaggio indietro. Questo è il grafico di Bitcoin, ok? L'IPP, il dato della giornata che poteva sconvolgere l'universo conosciuto, non ha creato niente, rispetto alle aspettative che avevamo per l'evoluta non è cambiato nulla, ok? E a questo punto diamo anche di nuovo un'occhiata a quella meraviglia che è l'SMP500, ok? Come ci siamo comportati oggi? Apertura, anzi, apertura con discesa e poi risalita. Siamo ritornati praticamente allo stesso livello, non è che sia stato fatto nulla di particolare, non è stato violato questo minimo, per cui la cosa bella è che sta partendo con fatica un nuovo t settimanale. Questo è il grafico che dovremmo paragonare a questo per vedere, anzi scusate, a questo per vedere se sono uguali, no? Per determinate persone che vi raccontano ancora che per sapere come si muove Bitcoin bisogna sapere come si muove SMP500. Voi ci trovate qualche cosa di uguale? Io vedo che da qui, dal 6, si continua solo a scendere. Qui su Bitcoin siamo saliti fino a 14, adesso stiamo lateralizzando sotto i massimi, ok? Io continuo a raccontarvi i fatti. Chi pensa di poter dire che c'è una correlazione diretta tra i due grafici, e peraltro non sa neanche dire dove andrà SMP500, o quando si staccheranno i due grafici, perché a volte viaggiano insieme, ma per poco tempo. Perché fa tutto questo lavoro per raccontare della correlazione che però c'è, non c'è, non si sa, adesso non c'è nessuna correlazione nei movimenti, ok? E' tutto tempo perso, soprattutto se non si sa dove andrà SMP500, peraltro. Cosa raccontarci? Cosa facciamo allora noi? Questa sera mettiamo un allarme qui sotto, sotto questo minimo, perché c'è la condizione del tempo, ma non dello swing, per la partenza del stesso T-3, dopo la durata estesa del quinto T-3. E mettiamo un altro allarme qui sopra, sopra i 25.324 dollari, ok? Perché se riuscissimo a fare uno sprint verso l'alto, se ci arrivassimo prima delle 23 barre, ragioneremmo di un eventuale long, anche perché riusciremmo a rimbalzare dall'invello inferiore della cumo, andare verso la media mobile a 50 periodi che ormai segna il passo, ci racconta se riusciremo a fare una continuazione di salita o meno, fa da resistenza in questo momento, e arrivando qui avremo potenzialmente una spinta long. Tenete conto che non ho ancora aggiornato il grafico e che qui abbiamo ancora questa centratura, ok? Nella realtà dei fatti può essere sostituibile da T inverso, secondo, terzo, quarto, quinto, raccordo, sesto, settimo T-3 inverso, che qui quindi non avremo nessun tipo di vincolo a salire di inverso, che in realtà a vincolarci a ribasso si dice di inverso, lo rispiego un attimo per chi è appena arrivato sul canale, l'inverso è l'indice ma specchiato al contrario, ok? Guardate, questo è l'andamento dell'inverso, eccolo qua, ok? Quindi se dico ribassista, c'è un vincolo ribassista sull'inverso, se capovolgete il grafico per l'asse delle x, comprendete perfettamente che cosa vi dico. E quindi mi aspetto che si ritorni qui sopra, e qui sopra sarebbe sopra i 26.529, ovvero, ricapovolgendo il grafico, qui sopra, ok? Questo è l'inverso, è l'indice fatto, specchiato al contrario per l'asse delle x, solo che siamo in dubbio. Quindi che cosa facciamo? Ci mettiamo questi due alarmi, come detto, ragioniamo sul tempo ciclico, e ci muoviamo soltanto sui t-3 sui cicli giornalieri, sapendo peraltro che qui continuiamo ad avere, come una spada di Damocle sulla testa, la condizione necessaria e sufficiente per aver chiuso tutto un annuale inverso, e che quindi si può scendere. Attenzione! L'abbiamo fatto dopo 200 giorni, si può arrivare fino a 336 di annuale inverso. Come faremo a sapere quando si inizierà a scendere? Quando violeremo degli swing decenti? Adesso, da questo massimo, non abbiamo violato nulla di particolare, per cui siamo totalmente in bilico tra possibilità di salire, e la controlliamo con questo swing, oppure possibilità di fare la chiusura del ciclo settimanale, già dal sesto t-3, scendessimo qui sotto, dopo, peraltro, assist fantastico, una durata massima di quinto t-3, che toglie qualsiasi dubbio per la partenza di un sesto t-3, anche se non andremo a violare lo swing per la partenza del sesto t-3 stesso, e non avremo quella conferma lì. Unico dubbio, rischio, di raccordo di grado t-4 tra un t-1 e un t-1. Per cui, fate attenzione, guardate le candele e ragionate bene. Spero di avervi dato tante informazioni, nel caso, spero appreziate anche lo sforzo perché l'analisi è fatta tardi per andare a vedere quelli che possono essere i movimenti che possono arrivare, ovvero alle 22.55. Inizio alle 8 di mattina, finisco più o meno a mezzanotte. Spero appreziate lo sforzo, e se volete mettere un like, fantastico. Come di consueto, il corso Trading Days è quello che trovate sempre sul canale, e con cui potete iniziare a ragionare di analisi evoluta e analisi ciclica di base. La trovate qua nelle playlist, nelle varie playlist. E' questo qua, Trading Days. Ci sono 7 video gratuiti, guardateli tutti e avrete tante informazioni. Il primo è stato quasi guardato da 25.000 persone. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci.